io lo chiamo trovare il mio equilibrio io lo chiamo sentirmi sicura di me io lo chiamo mente e corpo in armonia ci sono molti modi per descrivere questa sensazione noi di Activia lo chiamiamo vivere in sync Activia con 4 miliardi di bifidus acti regularis e la sua cremosità unica Activia vivi in sync